la partita si gioca adesso bene ciao a tutti bentornati in questo nuovo video oggi volevo fare un video completamente diverso ma poi il mercato di bitcoin non ci lascia ragazzi minimamente stare non ci lascia minimamente stare perché nella giornata di ieri ha fatto un super impulso sia di bassista prima e poi la reazione classica del candelone verde di cui vi ho parlato già l'altra settimana negli altri video e quindi ho detto vabbè facciamo un punto della situazione perché questa settimana non abbiamo guardato il grafico dell'analisi ciclica ma lo faccio ragazzi soprattutto per un motivo perché questa settimana è una settimana assolutamente importantissima assolutamente fondamentale per i mercati delle criptovalute per bitcoin perché si deciderà la sorte di questo nuovo ciclo mensile quando? in questi giorni quindi oggi lo vediamo perché credo che sia un valore aggiunto per la community essenzialmente estremamente importante perché andiamo a vedere quello che succederà è una cosa che a dire la verità ragazzi l'ho già detta due giorni fa e ribadita anche ieri mi pare nell'analisi giornaliera che faccio nella trading on academy quindi ne abbiamo già parlato ci aspettavamo anche questa reazione eravamo proprio in attesa avevo anche indicato le aree di iper venduto perché abbiamo un nuovo indicatore nell'academy ragazzi che fa proprio questo cioè indica quando a livello settimanale siamo in alcune aree che se siete short è meglio chiudere o se siamo in attesa di un acquisto si potrebbe valutare un acquisto ed è stato esattamente rispettato il mio indicatore settimanale un indicatore di volatilità fatto davvero ragazzi una di quelle cose che mi escono quando non dormo la notte dell'insonnia dovuta al trading e quindi ci siamo già posizionati insomma sono già successe un po' di cose però era importante per la community intera di trading on andare a vedere come questo ciclo che sta iniziando oggi sia un ciclo estremamente importante perché cambierà le sorti del mercato da qui a fine mese di gennaio quindi andiamo a vedere graficamente questa cosa tutti insieme appassionatamente ci spostiamo sul grafico allora eccolo qui davanti molto velocemente ragazzi come sempre purtroppo devo mettervi gli occhiali per vedere bene i numeri questa è la nostra analisi ciclica che adesso non vediamo da un po' perché questo grafico perché l'ho fatto prima del Natale allora qui è partito diciamo il 18 dicembre un nuovo ciclo che probabilmente è un ciclo mensile quasi sicuramente ormai è in questo punto ragazzi sul minimo di ieri ok è avvenuto il la close di metà ciclo la close di metà ciclo mensile quindi il bisettimanale cioè sono due settimane ragazzi di movimento ciclico vedete vi faccio ad esempio anche un disegnino che sono andate a costruire questa figura la famosa M che è andata poi a completarsi nella giornata di ieri quindi su questo minimo qui che è intorno ai 6.900 dollari sul prezzo di Bitfinex è stata chiusa il ciclo di natura settimanale e bisettimanale su Bitcoin quindi la metà del mese ora ben sapendo ragazzi che l'analisi ciclica ci indica che se facciamo questo tipo di chiusura quindi è un ciclo binario in questo caso dobbiamo poi ripartire ora questo secondo ciclo vediamo se ricordo se non ricordo male ragazzi c'è un diciamo una ecco qui cicli temporali fatti da TradingView ve li faccio vedere ok ragazzi allora questo è è quello a cui io vi sto riferendo spostiamo un attimo la mia alert by aria vedete questa fase qui è un metà di un ciclo quindi siamo nella seconda parte del ciclo mensile ragazzi qual è il problema e cos'è che Bitcoin deve fare se vuole cambiare questo trend perché ricordiamo che siamo in un trend laterale ribassista che dura da oltre 6 mesi ora se Bitcoin vuole invertire questo trend deve necessariamente creare un ciclo mensile rialzista ragazzi rialzista significa che dobbiamo andare ad avere questo tipo di movimento rialzista va bene? se non lo fa questa fase di trading laterale ribassista continua e inesorabilmente non ci lascia scampo ragazzi questo è il problema di fondo però per una serie di considerazioni io l'ho detto anche più volte a più riprese in questi video questa struttura che si sta andando a creare a me non dispiace intanto sembra palesemente un testa a spalle rivoltato lo vedete tranquillamente qui con la famosa neckline quindi una rottura sancirebbe un tipo di reazione che dovrebbe portare intorno agli 8005 sulla conferma di questo tipo di pattern che però sappiamo bene diciamo essere non molto comune cioè la conferma diciamo la conclusione di un pattern di testa a spalle rivoltato in questo caso non è estremamente facile ma quello che mi interessa di più è da punto di vista ciclico il superamento di questo livello di massimo ora questo ciclo nuovo che sta iniziando questo qui ragazzi quello che vedete questo tondino qui deve fare questo compito cioè andare a rompere questo livello di massimo cioè il massimo del mensile se lo fa allora ragazzi cambiano le carte in tavola cambiano le carte in tavola perché significa che bitcoin tenta tenta dopo sei mesi una vera reazione e quindi dobbiamo andare a dire ok ci andiamo sopra questo livello che sono i 775 questa linea verde qui ragazzi va bene è vero che dopo abbiamo subito la resistenza a 8000 ma entrambe diciamo sono di rilievo quindi secondo me ragazzi il mercato se vuole effettivamente fare una reazione dovrà tentare di fare intanto la rottura di questa media mobile blu che è la media mobile a 50 periodi che come vedete da una buona quindicina di giorni blocca il mercato lo vedete qui tutti i massimi sono andati a impattare sulla nostra media a 50 periodi dopodiché deve intanto rompere questa media dopodiché rompere i 7500 che è fondamentale poi magari prende pausa fa un po' di giochini e poi deve andare qui su ragazzi e quando questo nella parte finale di questo ciclo quindi se fa questo genera un nuovo ciclo mensile rialzista che poi sarà visibilissimo vedete fatto in questo modo allora questo è quello che può fare per invertire questa fase cambiare le carte in tavola questo è quello che significa ragazzi un grafico del genere cioè cambiare le carte in tavola se non lo fa e questo ciclo bisettimanale cioè il nuovo ciclo a due settimane che è iniziato quindi la metà del mensile va ad essere ribassista ulteriormente allora la probabilità entro fine mese di gennaio di scendere ragazzi sotto il minimo del 18 di dicembre è molto elevata quindi questo è il problema il minimo del 18 di dicembre è 6.400 dollari significa che poi ce ne andremo in questa baiaria che avevo già disegnato quindi probabilmente la rottura di questo livello è il posizionamento intorno ai 6.500 in questa zona qui che possiamo diciamo iniziare già a disegnare più o meno in questa zona tra qui è la parte inferiore che sono i 6.000 e i 5.500 ragazzi quindi in questa area vi dico francamente allora non mi piace una discesa ulteriore di bitcoin soprattutto in questa fase mi sta bene un doppio minimo a chiusura del mese di gennaio che abbiamo visto nel video precedente che è un mese estremamente complicato mi sta benissimo un doppio minimo ancora meglio una truffa ragazzi così ve la dico tra virgolette cioè quindi una rottura rialzista è una impennata del mercato che cambierebbe le carte in tavola quindi cambierebbe tutto quello che è avvenuto finora la fase ciclica del nostro ciclo annuale è scaduta quindi è vero che il mercato può fare un po' quello che vuole ma a livello tempistico ci siamo possiamo diciamo gestire questa parte allora ragazzi tanto tempo fa e farò un video a tal proposito vi avevo detto che la fase di mercato diciamo dopo giugno-luglio dello scorso anno sarebbe diventata per trader e non per holder così è stato ancora una volta questa fase precisa di gennaio e febbraio ragazzi sarà una fase per trader sarà una fase per trader dove i trader saranno diciamo staranno in campana e potranno ottenere grandi benefici perché questa è una fase in cui il mercato dovrà decidere un po' cosa fare quindi intanto se continua questa fase di trading range alla fine lascia comunque delle buone possibilità di fare gain ragazzi perché per esempio questi up e down continui ai trader diciamo fanno molto ghiotto perché si può seguire il mercato così per chi invece vuole posizionarsi sul lungo periodo il mercato deve prendere una decisione allora i due scenari per ricapitolare chiudiamo il video sono questi o si va a concludere questo ciclo mensile con un app strutturato in questo modo e questa è la view rialzista con un ciclo mensile che va a diventare rialzista oppure ragazzi andiamo a fare un ciclo differente che sarà nuovamente ribassista e quindi fa così poi tenta questo rialzo non ci arriva non ce la fa a un certo punto va giù e probabilmente se ne va a rompere il minimo di 6 e 4 o vicino al minimo di 6 e 4 poi lo valuteremo diciamo con calma se farà un doppio minimo quindi per diciamo trarre le nostre conclusioni come si fa il trading in queste situazioni si fa sui cicli piccolini diciamo all'interno di queste settimane quella che oggi è il venerdì ragazzi quindi è quella che inizia diciamo da oggi fino al venerdì prossimo quindi a fine settimana prossima già questa settimana darà molto significato e si deve fare ragazzi con un trading di natura intraday ma se volete vedere un po' di forza nel mercato per esempio già la rottura di questa media mobile a 50 periodi che sta intorno ai 7400 7500 e la conferma daily di questa rottura è molto importante insomma già potete magari a quel punto prendere qualche posizione però ragazzi io preferisco muovermi in intraday su mercati di questo tipo perché c'è meno rischio in quanto semplicemente assumo posizioni prima tutto qui ragazzi quindi mi assumo meno rischio soprattutto con bitcoin che è molto volatile e quindi preferisco prendere posizioni con trading system o mercati in 3 day il mio classico trading system midi term è tornato long stamattina chiaramente la precedente operazione l'ha chiusa in leggera perdita ha stoppato proprio con una piccolissima perdita prima del crash del mercato quindi può essere che fa la stessa cosa anche questa volta ragazzi non va preso in considerazione per operazioni di lunghissimo periodo perché sono operazioni statistiche quelle lì algoritmiche però insomma lui è dentro quindi ha trovato diciamo le condizioni long se non si sale sopra questi livelli nulla di fatto si gioca la partita in queste settimane vi ho detto tutto quello che è più importante ragazzi per capire quello che succederà da qui alla settimana prossima quantomeno occhi aperti sui mercati proteggete le vostre posizioni ho in mente di fare un super webinar perché ho trovato un servizio che sto provando da più di un mesetto circa l'ho provato sempre con i miei bitcoin e lo ritengo molto utile soprattutto per chi ha poca esperienza sul mercato quindi penso che farò un webinar nella prossima settimana spero se riuscirò di diciamo presentazione di qualche strategia utilizzando questo tipo di servizio questo tipo di tecnica se pubblicherò credo il webinar come sempre nel canale telegram per l'iscrizione e non so insomma ragazzi se vedremo se gli iscritti sono tanti magari facciamo una live su youtube perché l'ultima volta erano 350 iscritti con solo 100 post quindi non mi piace poi lasciare molti a casa quindi vabbè iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto lasciatemi un mi piace per questo video e ditemi una cosa molto importante come vi state posizionando sul mercato scrivetemelo nei commenti cosa state facendo soprattutto quali sono le vostre idee da qui alla fine del mese di gennaio per capire un po' se siamo sulla stessa linea per capire un po' anche quello che vi aspettate voi dal mercato facciamo un piccolo sondaggio ok ciao a tutti buon weekend